Io credo che tutti i maggiori talenti nello sport di combattimento sono nel sud Italia, quindi Napoli è una delle dati con più talento. Ogni volta che vengo cerco di fare sempre un elemento più difficile, più tecnico, più completo. Il livello era alto e ho fatto dei drill molto sofisticati. Credo che l'MMA sia lo sport di combattimento più completo e in generale lo sport di combattimento regala tanto e fa crescere tanto le persone. Sono molto felice di come è venuto l'allenamento e di aver lasciato qualcosa a tutti quanti. Sono sicuro che qualcuno di questi ragazzi arriverà lontano.